Sono stata invitata al congresso della SINDO per portare ulteriormente la voce della psicologia, nella misura in cui finalmente l'obesità viene riconosciuta come una malattia e non è una scelta, e finalmente si comincia a parlare di obesità come un problema legato ai disturbi del comportamento alimentare. A questo proposito volevo sottolineare che in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro in seno all'ordine degli psipologi della regione Sicilia, abbiamo portato avanti una prima indagine epidemiologica molto interessante nella popolazione giovanile, compresa fra 14 e 16 anni, e i dati che sono stati rilevati rispetto alla familiarità con comportamenti alimentari disturbati sono altissimi, molto più preoccupanti di quelli che vengono rilevati dalle statistiche del Sistema Sanitario Nazionale. Quindi poter avere la possibilità di centrare come l'aspetto psicologico e anche formativo sia basato sull'approccio relazionale, quindi questa dicotomia mente-corpo sia stata superata è fondamentale. In questo momento abbiamo bisogno proprio di una medicina e di un sistema di cura che sia il più possibile integrato, dove ciascuno porti il suo approccio a partire comunque dalla considerazione che abbiamo davanti un essere umano che oltre al ragionamento unitivo agisce sulla base di emozioni importanti. Non possiamo bypassare questo aspetto.